Prenderai il via venerdì 21 aprile il progetto Enoturismo Marche dalla vigna alla tavola presentato presso la sede direzionale di Confcommercio Marche e Marche Centrali di Ancona. Il progetto è nato con il contributo della regione Marche e si tratta di un percorso degustativo promosso e coordinato da Confcommercio Marche Centrali per la valorizzazione di vigneti e birrifici marchigiani insieme ai prodotti agroalimentari caratteristici del territorio. All'iniziativa hanno aderito 17 aziende per la realizzazione di cene ad hoc e l'ideazione di un menù particolare, 32 cantine del territorio marchigiano e 3 birrifici. Il direttore di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco. Questa è una delle tante iniziative, è il progetto che è importante, ormai noi abbiamo lanciato un progetto di forte collaborazione tra la ristorazione e le cantine tra i nostri ambasciatori del gusto con il vino, ma non solo perché presenteremo anche tutti i prodotti marchigiani con i marchi di qualità. Pertanto questo connubio tra agricoltura, materie prime e ristorazione con presentazione del prodotto al meglio credo che sia il progetto migliore per le marche per fare una buona stagione e un buon turismo. Alla presentazione è intervenuto l'assessore all'agricoltura della regione Marche, Andrea Antonini, che ha sottolineato l'importanza dell'enoturismo. Sull'enoturismo dobbiamo avere tutti la grande capacità di coinvolgere sempre di più tutti i protagonisti del territorio, quindi dalle cantine ma anche i comuni ma anche altri operatori perché effettivamente quando utilizziamo in modo positivo il vino per trainare un territorio attraverso anche un'importante narrazione del territorio stesso perché arriviamo alle radici dove il vino viene prodotto nelle vigne e questo interessa molto al nuovo tipo di turista, è fondamentale quindi che ci sia una rete tra tutti i protagonisti, quindi le amministrazioni, gli enti locali e gli imprenditori in primis. Quindi dobbiamo migliorare certamente nella capacità di fare sistema. L'amministrazione Acquaroli ha puntato molto sul biologico e in questo settore ci sono delle buone basi di sviluppo anche per il vino. Già noi da questo punto di vista devo dire come Marche stiamo messi bene perché siamo la seconda regione in Italia per produzione di vini biologici, quindi comunque in percentuale in proporzione ovviamente al territorio, quindi già stiamo messi bene. Però come sempre c'è da fare, si può fare di più, ma la regione sta contribuendo, innanzitutto ha creato il più grande distretto probabilmente biologico d'Europa, quindi mettendo insieme tutte le varie aziende con un coordinamento che parte dalla regione. E poi abbiamo aumentato anche recentemente, proprio due giorni fa in giunta, i fondi proprio per tutte quelle aziende che vogliono fare biologico. Abbiamo attraverso i fondi PSR, quelli proprio di sviluppo rurale, abbiamo prendendo l'economia rifinanziato una misura di circa 28 milioni di euro. Quindi voglio dire sono delle attenzioni, ma delle attenzioni tangibili, concrete.